... Mister, era difficile chiaramente alla vigilia, partendo dallo 0-2, ancora più difficile senza ticare in porta, no? Bisogna sapere perché non abbiamo mai tirato in porta. Oggi, nel primo tempo, a mio avviso, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, sfruttando molto meglio sia le palline attive, i calci d'angolo, le punizioni che abbiamo avuto sia dagli esterni che dal limite dell'aria e cercando di andare al tiro, cercando di andare al tiro, di fare a 25-30 metri perché spazi per andare al tiro non ho visti io. Quindi dobbiamo girare dalle spalle, dalle fasce che abbiamo fatto, girarli piano piano, però abbiamo avuto la difficoltà negli ultimi 25-30 metri nelle palline attive, all'uno contro uno, inventarsi qualcosa, cioè in quello ci sono stati dei limiti sicuramente. Ho deciso anche la mancanza di un attaccante, diciamo, di peso. Di peso, con chili, è chiaro, in una partita del genere era fondamentale. Poi mettendone anche di due, poi non ci scordiamo che 50 minuti, 8 di recupero, magari potranno essere molti di più, ma purtroppo più di quelli io non ho mai visto dare, quindi ha dato già il massimo di quello che di solo si dà, però abbiamo giocato veramente poco, 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 insomma. Quindi abbiamo avuto queste difficoltà e giocare poi per 50 minuti con un uomo in meno e quindi avere meno persone dentro l'area di rigore e si fa fatica a vincere le partite, questo è chiaro. Abbiamo avuto nel tempo quella collezione di angoli, poi quella punizione appunto di Carfora, ecco, quello è stato un po' il momento in cui forse poteva sbloccarlo. Loro però, l'anno che partiva, Davide ha fatto una grande parata nel primo tempo. Quale? Su Ghiano, dopo 8 minuti. Sì, era una grande parata, non ho visto la macchina, mi sembrava una parata normale che la doveva fare, perché se entrava la palla lì non era una papera, si dice, no? Quindi no, una parata l'ha fatta, hanno preso lo specchio una volta sola in una ripartenza. Una, ne potremmo prendere 6-7 di infilate oggi secondo me, perché quando stai sempre all'attacco per 100 minuti c'è il rischio che prendi delle infilate, non l'abbiamo fatto. Quindi rispetto a una condizione atletica che oggi c'era, che abbiamo corso molto di più, abbiamo avuto dei limiti, ma dei limiti anche di caratteristiche per sbloccare la partita. Poi c'è stata l'espulsione di Erna, inizio del secondo tempo, ecco che cosa è successo? Abbiamo visto così, sono venuti a contatto con uno della panchina, poi c'era anche esposito. Non le so queste cose, veramente non le so, non le ho viste, vedo tantissime altre cose, mi preoccupo di altro e non so cosa è successo. Poi ne riparleremo magari a freddo e non così a caldo e capiremo bene quello che è successo. L'unica cosa da fare è che se c'è confusione non si abbocca, questo è chiaro. Ora voglio solo capire se lui non ha fatto assolutamente niente, non ha detto assolutamente niente o se lui ha fatto qualcosa. Con le scelte iniziali, ecco come si è arrivato a questa formazione, Idromila in quella posizione è sembrato un po' faticare. Invece no, sì, i primi 20 minuti. Poi perché ha capito male quello che gli avevo chiesto io, poi ha cominciato a venire dentro il campo, ha giocato benissimo l'ultimo quarto d'ora, nonostante l'infortunio al naso, ha fatto bene quello che doveva fare, molto bene, è stata una delle sorprese liete. Oggi, rispetto per trasparenza, rispetto a quello che penso, io mi aspettavo di andare in gol nel primo tempo, giocando in quel modo lì e poi dopo il gol te ne manca solo uno, loro hanno un atteggiamento un po' diverso, vanno in fatica, invece acquistano nei minuti più certezze e secondo me potrebbe essere una partita diversa. Purtroppo, ripeto, è mancato un guizzo o una palla inattiva giusta. Ancora diventa una stagione, con l'Arezzo avrà probabilmente questa finestra di play-off comunque, vista la situazione del Gozzano, dell'altra semifinalista, quindi partirà probabilmente dagli ottavi in campionato, l'obiettivo a questo punto diventa quello di migliorare la posizione classica. Adesso no, adesso pensiamo, adesso siamo stati eliminati da una... Io avevo detto già, mi sembra, domenica avevo parlato di una grande... non ci bastava una grande prestazione, no? Mi serviva veramente andare sopra le righe. Non ci siamo riusciti proprio perché serviva anche qualcosa di proprio. Però oggi, a differenza di quello che poteva aspettarci, insomma, se vi ricordate, purtroppo eravamo 2-0 per l'ora. Era fatica, si faceva fatica a rimontarli, tutto qua. Grazie. Grazie.